Se le sono date di santa ragione una scazzotata in pieno stile cinematografico, quella tra i bikers di Venezia contro i motociclisti trevigiani. Calci e pugni a non finire con danni alle auto posteggiate all'esterno della sede sociale dei veneziani in via Olmi. Nel bel mezzo della rissa tra almeno 15 persone, attorno alle 22 e 30 c'è stata anche una rapina a una ragazza di 28 anni, costretta a lasciare la propria borsa agli aggressori. Tre i feriti in maniera seria sul fatto ora indagano i carabinieri. Iesolo. I genitori in Calabria, lui vive in estate a Sandonà da un cugino e durante il giorno, invece di giocare con i coetanei, vende asciugamani sulla spiaggia. Ha solo 15 anni, il ragazzino calabrese, ma con genitori di origine marocchina, fermato dagli agenti della polizia locale nel tratto di arenile della pineta di Iesolo, mentre cercava, senza autorizzazione, di vendere asciugamani ai bagnanti. Su disposizione del giudice del Tribunale dei Minori, il 15enne è stato affidato in custodia al cugino, ma non prima di aver promesso agli agenti che ora proverà a studiare, abbandonando dunque la professione abusiva. Carpenedo. Don Gianni Antoniazzi dormiva quando nel cuore della notte i ladri hanno fatto irruzione a colpo sicuro nella canonica di Via Manzoni. Almeno 5.000 euro il bottino quando alla risveglia, attorno alle 6.30, il sacerdote ha scoperto l'ammanco. Non avendo il condizionatore dormo con le finestre aperte, ha raccontato il don dopo aver allertato il 113. Da lì saranno sicuramente entrati i malviventi. Mestre. È allarmante il dato diffuso oggi dalla CGA di Mestre dopo aver incrociato le statistiche di Viminale e Istat. Se nel complesso i furti sono in diminuzione, quelli nei negozi commerciali e nelle botteghe artigiane, che rappresentano il 10% circa del totale dei furti denunciati all'autorità giudiziaria, sono invece in fortissima crescita. Negli ultimi dieci anni sono aumentati del 170%. Tra furti e spaccate è stato calcolato che si sono verificati mediamente 292 reati di questo tipo al giorno, 12 ogni ora, praticamente uno ogni 5 minuti.